La politica deponga le armi, il Cardinale Tarcisio Bertone d'Assisi rilancia l'appello della Conferenza dei Vescovi e invita a ricostruire la convivenza politica. Fabio Zavattari. L'appello alla pacificazione in politica, a deporre le armi, lanciato dal Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, pochi giorni fa e accolto pienamente dal segretario di Stato Vaticano. Forse qualche segnale c'è per pacificarsi e lavorare insieme, ha detto il Cardinale Tarcisio Bertone. usa un'immagine per dire la necessità di dialogo. Bisognerebbe riprendere la teoria dell'insiemistica che si studia a scuola e poi aggiunge la ricostruzione di un tessuto della convivenza pacifica, della solidarietà della comunità è un problema che riguarda tutti, anche i media. Uniti possiamo affrontare i grevi problemi sul tappeto. Ad Assisi per i dieci anni della riapertura al culto della Basilica di San Francesco, il Cardinale Bertone parla anche del terremoto in Abruzzo. Le promesse diventino realtà e non rimangono solo parole.